salve in questo video chiarisco altre cose fondamentali innanzitutto il mostrare che la determinatezza dei significati dei termini all'interno di un ragionamento che sfocia in una conclusione contraddittoria paradossale non è posta o non riesce ad essere mantenuta perché alla fine arrivati alla conclusione del ragionamento essa è come se retroattivamente negasse la determinatezza dei termini e dei loro significati da cui essa attinto senso e significato da cui deriva il suo stesso risultato far notare questo non comporta di negare la validità delle dimostrazioni per assurdo perché mentre nelle dimostrazioni per assurdo si vuole dimostrare la falsità di una tesi facendo finta che sia vera quindi ponendo che sia vera ma appunto la si pone come ipotesi si pone come ipotesi che sia vera non si parte veramente dal presupporre che sia vera il sottointeso implicito è proprio il contrario si parte dalla premessa che sia falsa quella tesi e che ne si vuole dimostrare la falsità quindi quando la conclusione mostra l'assurdità della tesi che si intendeva confutare attraverso il ragionamento attraverso la dimostrazione per assurdo non è che la determinatezza della tesi di partenza cambi e si trasformi e venga retroattivamente cambiata no 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 perché in realtà semplicemente nella conclusione del ragionamento per assurdo si mostra in modo palese quello che già si intendeva dall'inizio che la tesi fosse falsa e semplicemente viene reso esplicito quello che già era implicito ora voglio far notare che e tra l'altro anche se la si parte esplicitamente nel ragionamento per l'assurdo prendendo per vera la tesi che si vuole negare rimane sempre un'ipotesi che sia vera da un punto di vista formale non è assunta come certamente determinatamente vera invece invece per quanto riguarda i ragionamenti che sfociano in una conclusione paradossale si può notare che non accada lo stesso perché nel ragionamento paradossale non si ipotizza che la determinatezza assunta inizialmente per i significati e i termini che compongono le premesse lo ripeto sia da un punto di vista implicito che esplicito siano il contrario di quello che poi emerge nella conclusione no si parte dall'assumere che quei significati quei termini abbiano quel senso determinato e non un altro abbiano quel significato e non un altro adesso prendiamo in esame l'enunciato del mentitore questa frase è falsa ora se noi ipotizziamo che sia vero e istituiamo un semplice ragionamento che connette questa ipotesi con la conclusione questa ipotesi che la premessa sia vera regge anche la conclusione se la frase dice il vero riguardo al suo dichiararsi falsa allora la conclusione è che è falso che fosse vera il risultato affermando che è falso il punto di partenza cioè non è vero non può essere vero che la frase che dice di essere falsa abbia detto il vero sul suo essere falsa avviene non una semplice inversione per cui dall'ipotesi che che dica il vero risulta che che dica il falso perché la conclusione per cui risulterebbe falsa è tale da negare retroattivamente l'ipotesi che fosse vera cioè esclude categoricamente la possibilità che fosse vera ma se esclude categoricamente la possibilità che fosse vera la conclusione di questo ragionamento è come se escludesse il suo stesso punto di partenza la determinatezza iniziale dell'ipotesi che l'enunciato dica il vero riguardo al suo dichiararsi falso è una determinatezza assunta come vera cioè si assume come certo che sia una possibilità un modo di intendere l'enunciato il suo significato che possa essere vero quel che sta dicendo ma arrivati alla conclusione quando si arriva a ritenere che no è falso quello essere falso neca perentoriamente anche la determinatezza della possibilità che fosse vero e quindi è come se la possibilità che fosse vero non si fosse mai data in realtà nella conclusione del ragionamento e però se vogliamo mantenere fermo il risultato di questo ragionamento per cui dall'ipotesi che l'enunciato sia vero in quello che ha dichiarato viene fuori che è falso allora se vogliamo mantenere fermo questo risultato dobbiamo per forza negare la determinatezza dell'ipotesi iniziale cioè da che era assunta come ipotesi possibile viene totalmente scartata anche solo come possibilità viene totalmente negata la possibilità che che l'enunciato potesse essere vero in quello che stava dichiarando e se vogliamo mantenere fermo quindi il risultato dobbiamo negare per forza il suo stesso punto di partenza perché il significato ciò che esprime afferma la conclusione implica proprio questo ma se neghiamo se vogliamo mantenere fermo il risultato non riusciamo a farlo fino in fondo perché per mantenere fermo il risultato dobbiamo negare il suo punto di partenza negando il quale neghiamo anche la strutturazione sintattica che ha collegato quella ipotesi quella premessa a quella conclusione e quindi neghiamo anche il risultato della conclusione per cui se ho mostrato che il ragionamento non è sintatticamente valido perché non riesce a congiungere in modo valido le premesse con le conclusioni in quanto un ragionamento è sintatticamente valido solo se la determinatezza di tutti i suoi elementi di tutti i suoi termini rimane sempre tale dall'inizio alla fine del ragionamento non se non non se invece la conclusione del ragionamento comporta necessariamente di negare la determinatezza di qualche premessa di qualche termine di qualche significato che è risultato determinante per arrivare alla stessa conclusione al risultato in questione se appunto volessimo provare anziché a mantenere la determinatezza del risultato continuare a mantenere la determinatezza del punto di partenza dell'ipotesi di partenza delle premesse di partenza allora il risultato non riuscirebbe ad affermarsi in modo valido all'interno del ragionamento il risultato sarebbe autonegantesi quindi non si potrebbe affermare validamente in modo corretto all'interno di questa riflessione di questo ragionamento che davvero risulta effettivamente falso e questo vale anche al contrario se partiamo dall'ipotesi che l'enunciato dica il falso riguardo il suo dichiararsi falso verrebbe fuori che allora ha detto la verità in realtà no, anche se la conclusione del ragionamento è questa è una conclusione che è raggiunta non rispettando pienamente la sintassi del ragionamento ora vorrei vorrei chiarire anche un'altra cosa ora che la congiunzione tra premesse e conclusioni all'interno di un ragionamento appaia non vuol dire che sia strutturata in modo valido perché la connessione può anche apparire ma essere retta da un punto di vista implicito su degli errori su qualcosa che non appare da subito proprio perché è implicito e questo è il problema se gli errori fossero espliciti sarebbero palesi ed evidenti ma se gli errori sono impliciti vanno scovati e lo ripeto la determinatezza va posta e mantenuta da una necessità sintattica del ragionamento perché lo ripeto altrimenti la congiunzione tra premesse e conclusioni è come se non si desse si dà perché si forza la loro congiunzione ma non rimane non è valida solo perché la si è forzata presupponendo che si potesse attuare una congiunzione sintattica tra loro e non mi si dica che se non fosse stato valido il ragionamento sintattico non sarebbe stato possibile neanche presentare la situazione paradossale che essendo quindi stata presentata vuol dire che è ritenuta vera nel suo essere paradossale cioè è giudicata anche da me che sto facendo questi dirievi come paradossale e però tale paradossalità è in relazione al ragionamento paradossale che lo ha che l'ha presentata e mostrata come paradossale per cui se io negassi la validità sintattica del ragionamento che ha mostrato la sua paradossalità negherei anche la possibilità di dire tutto questo no non è così perché lo ripeto il ragionamento che mostra l'erroneità sintattica diciamo la non validità sintattica di questo ragionamento avviene in un in un meta livello in un in un meta ragionamento che ovviamente è sempre un ragionamento ma è meta ragionamento rispetto a quello che si sviluppa dentro il ragionamento dell'enunciato paradossale e quindi è un ragionamento che per assurdo quello che propongo io per assurdo parte dall'ipotesi che il ragionamento sia sintatticamente valido e che esprima la conclusione che esprime e quindi per fare questo per accettare la paradossalità dell'enunciato non sono costretto ad accettare la validità sintattica del ragionamento mi basta prenderla come buona per ipotesi e poi far notare come avviene nelle dimostrazioni per assurdo che se fosse pienamente rispettata non riuscirebbe al contempo ad essere rispettata e quindi va in autonegazione l'ipotesi che sia rispettata perché se volesse essere pienamente rispettata non ci riuscirebbe mai perché non riuscirebbe mai a rispettare pienamente la determinatezza dei suoi significati dei termini che compongono il ragionamento e quindi le premesse e tutto quello che ho detto prima insomma mi sembra di aver detto l'essenziale in realtà volevo dire anche un'altra cosa però adesso mi sta sfuggendo quindi fondamentale riepilogo brevissimo non solo ho mostrato che il ragionamento per assurdo non è negato dai rilievi che ho fatto ma in realtà quello che io utilizzo è una forma di ragionamento per assurdo per mostrare tutto questo cioè per mostrare la totale scorrettezza sintattica dei ragionamenti che sfociano negli enunciati nelle conclusioni contraddittorie poi e che la conclusione contraddittoria sia sempre falsa sia sempre sintomo di un errore del ragionamento da un punto di vista sintattico l'ho anche giustificato soprattutto in relazione alle necessità della struttura originaria che mostrano l'auto negazione della possibilità che si diano contraddizioni vere e in qualche modo diciamo anche che la struttura originaria implica l'impossibilità che un ragionamento valido porti a una conclusione auto negantesi perché una conclusione contraddittoria è sempre auto negantesi ricordo che invece il ragionamento circolare contrario a quello che sto dicendo che che tenta di opporsi a ciò parte dall'assunto che io metto in discussione che una conclusione non sia auto negantesi in quel senso una conclusione contraddittoria solo perché riesce a mantenere da un punto di vista puramente espressivo i termini che la compongono ma questo è chiaro evidente nessuno lo nega nessuno nega che appaia la combinazione di termini che stando insieme nei loro significati nel significato complessivo che compongono beh stiano ponendo un contenuto contraddittorio non nego questo anche perché se negassi questo negherai l'evidenza e negherai anche la possibilità di fare il ragionamento che ho fatto io nego però che basti a mettere insieme quei termini per avere per aver mostrato che la conclusione non è auto negantesi tale da negare retroattivamente anche la validità e la determinatezza del ragionamento da un punto di vista sintattico invece la contestazione che ho ricevuto praticamente a questo argomento è che il ragionamento è valido perché le premesse sono congiunte in modo valido attraverso una sintassi corretta è quello che io metto in dubbio io metto in dubbio che che basti aver congiunto le premesse alla conclusione per aver mantenuto il rispetto pieno della sintassi che deve includere anche il rispetto della determinatezza di quei termini dall'inizio alla fine del risultato e non presupporre che non accada quello che ho spiegato solo perché si continua a ribadire quello che ho messo in discussione cioè si continua a ribadire che no il ragionamento è sintatticamente valido io sto mettendo in dubbio e sto confutando questo assunto che viene reiterato e comporta una grande petizio principi così stanno le cose ho addirittura spiegato come e perché la determinatezza non riesce ad essere mantenuta ho spiegato perché il non porla o il non riuscire a mantenerla fino al risultato comporta una mancata correttezza del ragionamento dal punto di vista sintattico ho spiegato perché nonostante il ragionamento che sfocia in conclusioni paradossali sia sbagliato riesce comunque ad esprimere quello che intende affermare perché appunto come già ho spiegato in più video è come se il ragionamento si scomponesse in varie situazioni parallele dove e anche poi nella conclusione accade questo dove per mantenere ferma la determinatezza di alcune parti si deve per forza negare implicitamente quella delle altre arrivati alla conclusione ciò risulta risulta palese perché la conclusione se esprime un contenuto contraddittorio esprime un contenuto autonegantesi che comporta quello che ho spiegato e invece e lo ripeto l'ultima volta nell'obiezione circolare che è stata più volte riproposta contro questi argomenti e che è confutata da questi argomenti si ritiene che appunto la conclusione sia contraddittoria ma non autonegantesi solo perché appunto si ritiene che sia scaturita da un ragionamento sintatticamente valido che è quello che è stato invece confutato e quello che invece dovrebbero dimostrare coloro che ripropongono questa obiezione circolare totalmente circolare totalmente confutata grazie a tutti